Gian Paolo Vietri è candidato al Consiglio regionale pugliese con Fratelli d'Italia, candidato presidente Raffaele Fitto. Il suo slogan programmatico recita, cultura, lavoro, sviluppo, ricostruiamo il futuro. Analizziamo l'aspetto dello sviluppo. Lo sviluppo è un altro tema fondamentale per il nostro territorio. Lo sviluppo indica la condizione in cui versa un'area geografica e se noi investiamo in politiche dello sviluppo vuol dire che lavoriamo per rendere concrete quelle che sono le potenzialità della nostra provincia. La nostra provincia ha bisogno di nuove infrastrutture, ha bisogno di adeguare le infrastrutture esistenti e ha bisogno di creare nuove reti di beni e servizi per favorire il nostro sistema economico. Purtroppo la nostra provincia è una provincia fortemente penalizzata in termini di collegamenti viari e ferroviari. Abbiamo pochi collegamenti verso Roma e verso il nord. Abbiamo una rete autostradale che si ferma a 30 km dal capoluogo e che penalizza completamente l'intero versante orientale della nostra provincia. Abbiamo un aeroporto ancora chiuso ai voli civili. Tutto questo penalizza fortemente il nostro settore produttivo locale e quanti necessitano di infrastrutture, di una mobilità efficiente per poter sviluppare quelli che sono i propri affari e il proprio lavoro. Anche una infrastruttura importantissima come il porto va rilanciata perché deve garantire molti più posti di lavoro. Il tema dello sviluppo perché investire in politiche dello sviluppo vuol dire anche mettere maggiormente in connessione il nostro territorio con il resto d'Italia ed Europa. Vuol dire dare maggiore sicurezza per il futuro alle nostre imprese. Vuol dire rendere maggiormente attrattivo il nostro territorio. Io mi impegnerò seriamente per ciò che riguarda il tema dello sviluppo anche perché credo che le opere e le infrastrutture possono essere realizzate intercettando i finanziamenti europei come il Fondo per la Coesione e il Fondo per lo Sviluppo delle Regioni.